Comunicando, comunicando, e intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando Amiche e amici di Volumbrite, siamo qui con Patrizia Ottone del servizio LGBT del Comune di Torino. Volevamo chiederti, come tutti gli ospiti di questa prima serata dei dialoghi sulla salute, qual è il rapporto tra la salute e le tematiche LGBT che avete portato voi e le altre associazioni di questa serata? Bene, quando si parla di tematiche LGBT si parla di identità sessuale, quindi di un tema che interessa tutti e tutti, quindi un tema legato al benessere personale, però quando si parla di questioni LGBT si parla anche di tematiche relazionali, quindi anche di, purtroppo nella nostra società ancora, di discriminazioni e di pregiudizi rispetto alle persone LGBT, dunque il tema del benessere si declina anche in senso collettivo, in senso sociale, quindi il benessere e la salute non sono soltanto tematiche individuali, ma riguardano le relazioni che intratteniamo con gli altri e quindi la dimensione sociale, la dimensione collettiva. Una domanda informale, cosa fai tu per la tua salute? Allora, io cerco di curare il riposo, quindi non solo il riposo notturno, ma proprio degli spazi di inattività e di vuoto. Grazie mille, alla prossima!